Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul mio canale. Come avrete capito dal titolo, questo è un piccolo video di ringraziamento per aver raggiunto e superato i 100 iscritti sul canale YouTube. In realtà 100 iscritti su YouTube sono pochissimi, equivale a non averne, e considerando che tra questi ci sono i miei amici, i parenti, i colleghi del lavoro, è evidente che questo numero sembra poco significativo. In realtà per me è molto importante perché mi spinge a pubblicare nuovi contenuti, ok? Quindi vuol dire che sono sulla strada giusta, vuol dire che quello che faccio piace a qualcuno. Purtroppo non sono così costante come vorrei, a me piacerebbe riuscire a pubblicare almeno un video a settimana, ma è molto difficile, molto dura perché richiede il tempo sia a fare le clip, quindi registrarle, sia montare il video, aggiungere la musica, fare i tagli. Ora, dato che vorrei aumentare la frequenza di pubblicazione e portare più contenuti sul canale, ho deciso di creare, di sperimentare diversi format che usciranno nelle prossime settimane o i prossimi mesi. Diciamo che ci saranno delle aree tematiche, la prima è quella dei viaggi, che già è presente sul mio canale e che funziona abbastanza bene. Nelle prossime settimane uscirà un video dedicato a un weekend che ho trascorso sulle Dolomiti. A maggio uscirà una serie dedicata alla Florida e a Miami, quindi se avete domande e curiosità sulla Florida e Miami fatemelo sapere nei commenti. E sicuramente poi dopo l'estate arriverà una serie molto più lunga, non vi dico ancora dove andremo, però sarà qualcosa di simile alla serie che ho pubblicato sull'etanaglia. Molti video che usciranno ogni domenica dopo l'estate, però prima di quello sicuramente si parlerà di Dolomiti appunto e di Florida. Il secondo tema del canale sarà la tecnologia e io sono appassionato di tecnologia. Cercherò di portare dei contenuti tecnologici. Non so ancora bene come, non voglio portare i soliti unboxing o le solite recensioni. È pieno YouTube di questo tipo di video, di questi tipi di format. Sto pensando a qualcosa di diverso e per ora non ho idea, però è un qualcosa che mi appassiona. Quindi sicuramente mi dovrebbe venire più naturale e più semplice parlare di certe cose nei miei video. Il terzo tema è la corsa. Io sono un appassionato di corsa, corro qualche mezza maratona, non sono un accanito, non sono professionista, non corro tutti i giorni. Probabilmente non sono un runner, sono più un jogger. Non so bene la differenza, però diciamo sono una persona che corre solo per il piacere di farlo. Però vorrei girare qualche clip o qualche video dedicato alla corsa e magari portarlo sul mio canale. Questo format è ancora qualcosa che non ho ben definito, non so bene ancora di che cosa portare come contenuti, però è un qualcosa che mi frulla in testa. La quarta categoria, la quarta tipologia di video che vorrei portare sul canale è relativa alla ristorazione. Questa idea si basa sul fatto che mediamente visito tra i 50 e i 70 ristoranti l'anno. Un po' per piacere, un po' per lavoro, quindi mi piacerebbe portare qualche contenuto relativo alle esperienze che faccio in questi ristoranti. Direi che questo video termina qua, non ho nient'altro da dire. Ci vediamo sicuramente nei prossimi video e grazie a tutti voi adesso siete 103.